Voglio ringraziare i tre assessori che hanno lavorato con me in questi tre anni, che hanno lavorato all'interno della Giunta in questi tre anni, che hanno messo a disposizione il loro impegno, la loro capacità, Silvia Piani, Martina Cambiaghi, Giulio Gallera. Quest'ultimo ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi e quindi era particolarmente stanco e ha quindi condiviso un avvicendamento.